Sono Silvia Imonino, nella vita normale sono una costumista, soprattutto teatrale e di opera lirica. Nella vita parallela, nel quale mi ha catapultato Balic dieci anni fa, faccio, produco, a volte disegno le cerimonie olimpiche, ormai abbiamo fatto quattro olimpiadi. Nell'ultima avventura in Brasile, l'avventura è stata più incredibile del solito perché abbiamo prodotto tutto lì ed è di questa avventura che vorrei raccontare oggi nella mia speech. È stata un'esperienza unica rispetto a tutte le altre perché comunque è la prima volta che ci siamo calati veramente per un'avventura in un'altra realtà, realtà che da qua forse sembra un mondo arretrato e che invece abitandoci anche nel suo a parti più divertenti ma anche in quelle orribili hai la netta sensazione sia il nostro futuro, in cui tutto quello di cui stiamo parlando qua come appunto gender piuttosto che melting pot lì è superato grandemente dalla realtà. Al prossimo episodio